Ok, buonasera, finalmente il source of the game sbarca anche nel primo momento. In assoluto, come da regolamento, ringrazio il buon Manuel Pennesi per la nomination e spiego velocemente come funziona il gioco. Scopo del gioco è bere il più velocemente possibile mezzo litro di beer in un solo sorso e rispondendo alla nomination di chi ha pubblicato il video precedente. Al termine della bevuta, l'interessato dovrà nominare altre tre persone che avranno 24 ore di tempo per eseguire lo stesso compito. La birra che prendiamo questa sera si chiama Blanche del Amore, birra belga, non filtrata, a base di malto d'olido e malto di frumento, aromatizzata pure a sal e limone. Detto ciò, salute! Bene, a questo punto le mie nomination. La prima nomination va al volg Rayrock. Rayrock è un promettente carrista che dovrete conoscere. La seconda nomination va invece ad Alessandro Costanza, cantante di una del migliori tribute band di Muse attualmente in circolazione. La terza nomination invece va a Horatio Shaka, il nostro barman, dignello di tutto, che avrà 24 ore per bere la prossima birra. Ok ragazzi, ci vediamo nel tumue! Grazie! 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 Grazie!